Ancora una volta una manifestazione di protesta convocata dal Tavolo dell'Unità è repressa dalle forze dell'Ordine con violenza. I manifestanti, che si erano dato appuntamento alla Plaza Brion nel quartiere di Ciaccaito, all'este della capitale, avevano cercato di recarsi in corteo alla Defensoria del Pueblo. Una pioggia di gas lacrimogeno e cariche di alleggerimento della Polizia Nazionale Bolivariana sono riuscite a disperdere i manifestanti. Le proteste sono comunque proseguite nei quartieri di La Mercedes, nel comune di Baruta e in quelli di La Castelliana e di Altamira nel comune di Ciaccao. Nel comune di Baruta, stando alle denunce e alle testimonianze di alcuni malati, agenti della Guardia Nazionale Bolivariana avrebbero lanciato gas lacrimogeno nelle adiescenze della sala di emergenza della clinica Centro professionale a Mercedes. Gli scontri tra polizia e manifestanti si sono prolungati per alcune ore.